Buon salve, bentornati su No Mamamazzo! Come state? Come state passando questa Pasqua? Come state passando questa quarantena che ci tiene lontani dalle sale cinematografiche a noi nerdacci? Avete sentito la notizia che Ezra Miller è impazzito e ha picchiato una ragazza? E quindi molto probabilmente sarà cacciato dal franchise di Flash, tra l'altro che fa parte di un franchise molto più grande che quello del DC Extended Universe che è stato fortunatissimo finora, se n'è andato Batman, se n'è andato Superman, ora anche Flash se ne va e tanti saluti, buonanotte al secchio. Peccato perché gli altri elementi di quella che poteva essere la futura Justice League, ovvero Wonder Woman, Aquaman e Shazam, hanno avuto un discreto successo al box office e anche a livello di critica, diciamo, di qualità della pellicola quantomeno rispetto agli altri obrobri che hanno cacciato fuori. Ma dove si va a cercare la bellezza televisiva della DC Comics, laddove il DC Extended Universe non ci ha dato queste grandi gioie? Ovviamente se mi seguite sapete che uno dei video più visti del mio canale è proprio il video su Crisi sulle Terre Infinite che è il crossover, è l'ultimo crossover dell'Arroversa, quindi la maggior parte delle persone si consola guardando l'universo televisivo espanso della CW per vedere i nostri eroi mescolarsi in azione con loro. Però, però, c'è da dire che anche qui ultimamente il livello, la qualità è calata notevolmente, specie alla luce del fatto che adesso Italia 1, per tenerci compagnia in quarantena, darci qualcosa di allegro, ci sta facendo vedere tutte le mattine almeno tre episodi delle prime stagioni di Flash, costantemente, siamo arrivati già alla terza stagione, e proprio perché ogni tanto ci butto un occhio e me le riguardo, mi sto proprio accorgendo di quanto fossero migliori le prime stagioni di Flash rispetto alla stagione attuale, alla sesta stagione di Flash, che tra l'altro è stata anche questa fermata per il discorso del coronavirus, e quindi siamo un attimino tutti in fase di stallo, ma che comunque non ci stava regalando chissà quali perle, perché è iniziata molto in sordina, perché si vede che stavano puntando tutto sul crossover, su Crisi sulle Terre infinite, ma anche dopo che è passato questo crossover, vedo che non si sta partendo, ci sono delle trame orizzontali un attimino poco interessanti, e anche le trame dei singoli episodi sono più melense del solito, non è un segreto che la CW abbia tra i suoi show una altissima percentuale di romance, ma qua siamo ai livelli dove non c'è nient'altro, non c'è avventura. E così cosa ho fatto per placare la mia voglia di Justice League, la mia voglia anche di Flash, e anche la voglia di Kid Flash, perché no? Mi sono deciso a guardare finalmente una serie che era da un po' di tempo su Netflix, una serie animata della DC Comics, che è Young Justice, e qui si entra nel vivo. Young Justice è una serie davvero matura, davvero fatta molto bene, talmente bene che non è una di quelle serie dove ti puoi permettere di addormentartici, nel senso che non ti può scappare nessun dettaglio, perché ogni episodio ha un piccolo dettaglio all'interno di una trama più grande, all'interno di una trama quasi di spionaggio, perché la Young Justice in questo caso, che non sono i Teen Titans, ma è probabilmente una specie di versione sotto copertura, molto giovane ovviamente, della Justice League, è composta da queste iniziali spalle dei supereroi, si occupa appunto delle missioni non pubbliche, perché comunque la Young Justice, scusate, la Justice League è sotto gli occhi dei riflettori di tutto il mondo, e quindi anche dei cattivi che operano per le loro trame bieche, malvagie, di conseguenza quando c'è una missione da fare nascosta, la Justice League si serve della Young Justice, e questa è un'idea di base davvero fantastica, come per esempio i Vendicatori Segreti, o queste cose qui. La Young Justice, il telefilm, scusate, la serie tv animata Young Justice, è composta per ora da due stagioni, stanno già facendo una terza stagione. Nella prima stagione i principali protagonisti sono Robin, che poi scopriremo che è il Robin Dick Grayson, quindi il primo Robin, Kid Flash, ovvero Wally West, Superboy, ovvero Connor Kent, il clone di Superman, Aqualad, che non è il primo Aqualad, non è Gart, ma è il secondo Aqualad, che è Kaldur, che tra l'altro, ho scoperto, nasce proprio in questa serie animata per poi finire sui fumetti, come è capitato anche a altri personaggi che per una grossa popolarità sono poi finiti nella continuity regolare dei fumetti. E Miss Martian, che è la nipote di Martian Manhunter, a questo team iniziale si aggiunge poi anche Artemis, che è una delle tante arciere spalle di Green Arrow. Perché Artemis e non Speedy, per esempio? Perché Speedy, a quanto pare in questa versione, e non solo, perché anche nei fumetti è così, è molto rissoso, è molto ribelle, di conseguenza non gli va di far parte di una band di spalle, ma voleva proprio accedere direttamente alla Justice League, quindi se ne va tutto arrabbiato, e sta molto esterno a tutto ciò. Però, ciò nonostante, comunque aiuta la Young Justice, di conseguenza vedremo anche un pochino di Speedy, che non è più Speedy, ma è Red Arrow. La bellezza dello show sta proprio in queste trame molto fitte, anche nel rapporto tra supereroi giovani, nelle versioni giovani dei nostri supereroi preferiti, ma anche nel fatto che loro si rapportano comunque molto spesso con la Justice League. Quindi anche se non vediamo direttamente la Justice League, vediamo i vari membri della Justice League che interagiscono con la Young Justice. Vediamo Shazam, vediamo Batman, vediamo Superman, vediamo i rapporti che i grandi eroi hanno con questi giovani eroi. Nella seconda stagione, purtroppo, dico purtroppo perché io avrei preferito che avessero preso una strada diversa, vi avviso già che saranno passati ben cinque anni dalla prima stagione, quindi vedremo tutti i nostri eroi molto maturati, vedremo un sacco di nuovi eroi che nel frattempo sono arrivati senza esserci, senza che ce li abbiano presentati, quindi ce li presenteranno mano a mano nel corso della stagione, ma diciamo non è una cosa che a me piace molto, che vengano buttati un sacco di eroi sulla scena senza essere presentati, ed è anche per questo che non mi è piaciuto molto Justice League, dove un sacco di eroi sono stati buttati dentro senza che abbiano alle spalle un film stand-alone. Però, vabbè, comunque è bello anche vedere cosa è successo, come si sono cambiati i rapporti in questi anni, vediamo che Robin di Dick Grayson non è più Robin, ma è Nightwing, vediamo che c'è un secondo Robin che palesemente dovrebbe essere Tim Drake, anche perché c'è un santuario con degli ologrammi delle persone cadute in battaglia, e c'è anche un Robin, quindi molto probabilmente è già successo in questi cinque anni anche tutta la storia di Jason Todd e così via. Se non la conoscete, scrivetelo, che vi faccio un video a parte, ma recuperatela in giro, è pieno di gente che sta parlando di questa saga di Jason Todd del secondo Robin, eccetera. La seconda stagione è ancora più fitta, è ancora più quasi spionistica della prima, quindi c'è da starci ancora più attenti, anche perché molte cose, quasi tutto quello che vediamo non è quello che sembra, ed è anche un po' la forza di questa serie tv, quindi credo che andrà sempre di più salendo questo livello di plot twist, ed è anche una cosa molto bella, molto insolita per una serie a cartoni animati, che è molto matura, senza però essere una serie comica dissacrante per adulti. Cioè, riescono a dimostrarci che questa serie, che penso abbia un target tardo-adolescenziale come target di riferimento, riesce a avere delle trame che non hanno nulla da invidiare a dei film, che non hanno nulla da invidiare a delle serie tv live action, come quelle della CW, anzi, è qualitativamente più alta della serie tv live action della CW, di tutte le serie tv live action della CW, ad esclusione fatta di Black Lighting, che è molto più maturo rispetto agli altri, e riesce a essere così matura, essendo però un genere comunque supereroistico, avventuristico, senza essere qualcosa di comico, come i Griffin, piuttosto che Brickleberry, piuttosto che Bojack Horseman, piuttosto che Rick e Morty, riesce a essere una serie tv adulta, ma per ragazzi. Quindi vi ho messo un po' di curiosità per vedere questa serie tv, o magari l'avete già vista? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi anticipo già fan di Flash che in questa serie tv vedremo oltre che Wally West, vedremo anche Barry Allen, vedremo anche Bart Allen, quindi vedremo tutti i velocisti, vedremo anche un pochino di Jay Garrick, sarà bello vederli tutti assieme. Quindi mi raccomando, guardate la serie e fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti. Vi invito sempre anche ad iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace, ad attivare la campanella delle notifiche, a condividere il video con tutte le persone che amano questo telefilmo, tutta la DC Comics. Con questo è tutto, come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e a tra poco con il prossimo video per questo anniversario del mio canale. Arrivedorci!